Lo scorso anno sono tante le produzioni televisive che sono arrivate, tra cui la Tau 2 con Romanzo Siciliano, quest'anno già è arrivato qualcuna. Devo dire che l'intuizione di creare la Film Commission a Siracusa è stata molto felice, non è certo una novità perché c'era la Film Commission provinciale, ma per i motivi che sappiamo le attività di quella commissione poi non hanno avuto seguito. Anche quest'anno abbiamo tutta una serie di richieste di produzioni maltesi, ancora la Rai con Rai Storia, Sky con Sky Art, adesso ci sarà una produzione canadese che girerà nelle prossime settimane un film a Siracusa, una produzione maltese, una produzione indonesiana. Devo dire che veramente l'attenzione sul nostro territorio è molto alto, noi siamo felici non solo per una questione legata al marketing territoriale, il ritorno di immagine per la nostra città, ma anche per l'indotto che quest'industria, l'industria del cinema e in generale della produzione media può portare nella nostra città. Ma si potrebbe fare ancora molto di più? Beh, si può certamente sempre fare di più, si potrebbe non solo gestire l'accoglienza di queste produzioni come cerchiamo di fare al meglio, seppur come può capitare con qualche intoppo, ma noi dovremmo fare qualcosa per attirare, quindi per attirare ulteriormente queste produzioni, ecco perché abbiamo avviato un'interlocuzione fitta con l'assessorato regionale, onde poter costruire insieme un modello che poi trovi sviluppo in una legge regionale in cui si possa davvero dare e formulare un quadro completo e organico di provvedimenti in iniziative proprio volte ad attirare questo genere di produzioni. Dobbiamo aspettarci un'altra produzione televisiva, un'altra fiction girata interamente a Siracusa magari? Ma perché no, so che i produttori di Montalbano sono in giro per la Sicilia per fare scouting di location, Siracusa chiaramente si candida con grande disponibilità e grande piacere, non è in agenda che ci sia un'altra fiction in arrivo, ma ripetevo, vi dicevo prima, l'interesse internazionale per la nostra città è davvero in crescita.